Adesso smontiamo le prese e vediamo che cosa c'è qua dietro. Intanto vi dico tutte le tracce ematiche, quindi le cacchie, le pelli e tutto quello che sta nel loro nido. L'essenziale è smontare le prese Eccolo qua, qua c'è tutta una bella infestazione, pelli, cacchie, uova, non manca nemmeno. Quindi adesso le apriamo tutte e distruggiamo tutto quanto, semplice. Altre prese, anche qua abbiamo tutti segno di cacchie, pieno, quindi dobbiamo per forza dare a smontarle. Stando sempre attenti chiaramente alla gomma elettrica, è quello che cade. Stando sempre a smontarle a smontarle a smontarle a smontarle a smontarle. Pu. 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 Pu.